Siete già stanchi? Pronto moda? Stavo criticando le scarpe, sono molto meglio che della satta Ma come ti permetti? Questa è moda pura, avanguardia, guarda il tavolo Se qua ci versi il prosecco esce tutto Ma perché devi versarlo nella scarpa? Ma che schifo! Le scarpe fatte con il lego sembrano Mi piacciono le mie calzine della ternana Allora amici, perfetto per Giulia Salemi Il tre Come a scuola, no? No, occhio a scuola C'è la macchina, c'è il post auto, non c'è l'amore Tanto vale prendi un Uber Ma va bene, senta Ho il taxi Dopo queste bellissime considerazioni sull'amore Per dire, per dire Io direi di andare avanti con i consigli della nostra Orietta Berti